Senza confini riprendiamo a giocare. Questo è il titolo di una delle cinque proposte progettuali più votate dai cittadini nell'ambito del bilancio partecipativo 2022. Il progetto, presentato dall'SD Polisportiva Nissena, rientra nell'area tematica sport, proponendo infatti attraverso un'idea inclusiva la possibilità di far svolgere l'attività di calcio giovanile ai ragazzi dai 6 ai 17 anni. Questo progetto permetterà la partecipazione di una cinquantina di giovani, 56, stando alla proposta consultabile attraverso il sito del Comune Nisseno e prevede diverse fasi da sviluppare nel corso di sei mesi. Sicuramente un ringraziamento particolare principalmente a tutti coloro che hanno creduto nel progetto. È un progetto che è rivolto a soggetti fragili, a soggetti adolescenti e bambini da integrare nel tessuto sportivo, in questo caso nell'attività calcio. Ci occuperemo di fare in modo che questi bambini poi possano interagire e integrarsi con le realtà sportive che già esistono e che sono operanti nel territorio. Il titolo del progetto è senza confini, riprendiamo a giocare, appunto perché non dobbiamo creare confini, non dobbiamo schematizzare e quindi rivolgere l'attività soltanto a chi si può permettere di fare attività sportiva, in questo caso il calcio, ma anche a bambini che si trovano in difficoltà, che si trovano in associazioni, oppure anche ai ragazzi bambini extracomunitari, e quindi farli integrare con gli altri bambini, con gli altri ragazzi delle società sportive. Aspetteremo che l'amministrazione comunale e gli uffici ci comunicheranno l'inizio dell'attività, attività che verrà svolta in una struttura che già è operativa e quindi ha tre campi di calcio in erba sintetica. I bambini verranno suddivisi per fasce d'età omogenee, svolgeranno un'attività due volte alla settimana, per un'ora e mezza al giorno, quindi tre ore settimanali di attività. Poi successivamente, quando l'amministrazione ci darà il via, sarà compito nostro, delle associazioni, far coinvolgere, veicolare la possibilità di partecipare al progetto.